Con la spada a legno, mamma, 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 quale ho ammazzato! Ah! Oddio! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo sulle Bedwars. E allora, allora, fermi. Sono di nuovo nelle Bedwars, non ero un episodio della vanilla, perché... Oggi non mi andava di fare la vanilla, ma andava invece di fare le Bedwars. Comunque il video della prova a non ridere con l'acqua in bocca ha raggiunto più di 50 visualizzazioni in meno di 24 ore, cioè... Grazie! Veramente, wow! Questo chi è? Chi sei? Sto registrando un video. Posso fare delle Bedwars? Comunque, allora, teniamo tutto questo player che fa laggare. E allora, andiamo oggi... Non so se fare una solo, una Davos, una 3v3v3 e una 4v4... V4v4, eh? O una 4v4 da soli, però... Oggi volevo provare, dai, le 3v3v3. Andiamo. Eccoci qua, i player sono già tutti. Oh, c'è uno zombie! Fermo, fermo! Zombie! Ciao! Io sono Aerobrine. Eh, ti piace la mia skin? Perché la tua è molto bella. Ciao! Vabbè, eh... Allora, ci siamo... Con chi siamo? Con... Eh... Dei gamer e ATM. Mmh, siamo molto forti. Allora, sono veramente carico perché... Dal video che ho fatto ieri è andato veramente bene, quindi sono contento. Allora, prendiamo un po' di blocchettini. Il letto si guarda così. Ok. Ok. Ok, letto bardato. Allora, ho già finito i blocchi, quindi ne vado a prendere altri. Poi l'oro lo metto nella ender chest. Un po' di ferro. Allora. Il ponte per gli amanti già ce l'abbiamo. Ok. Fra 10 secondi ne nasce un altro. Allora. Non so se fare il collegamento per gli smeraldi, anche se ci sono già i blu. Mmh... Ok, allora. Ho finito i blocchi. Mmh... Scendo. Ahia. Dai su, datemi un po' di materiale. Allora, il velo sta arrivando? Sembra lì fermo. Ok. Ci stai fermo che non vedo! Ho 13 di ferro, quindi mi prendo un po' di blocchi. E il restante metto tutto nella ender chest. Ok. Allora, sto venendo di nuovo il blu. Ok. Ok. Allora. I blu ce l'hanno con noi, eh. Me lo so. Faccio lo speed bridge come fanno tutti, però. Scusa. No! Oh! Maremma. Cadi? Sì, è caduto! L'ho buttato giù. Sì! Allora. Dico tante volte a loro perché è un modo per collegare le frasi per me. Comunque. Lasci sono i gialli che hanno un letto bardato un po' male. Ma meglio di noi sicuramente. C'ha la spada in ferro. te? Te qui che vuoi fare? Eh? Con la spada in legno? Ma 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 quale ho ammazzato? Oh oh! Ciao ciao! Ammazzato. Uh, c'aveva un bel diamante. Ok, 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 ok. Smeraldi no, eh. Ok, quindi sto per cadere. Dai dai dai! Ci servono diamanti! Tieni! Sta arrivando qualcuno? No. Ma perché sei fermo? Eh? Ci sei? Tieni il diamante! No. Ah, ma 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 ma. Non sembrano molto forti i nostri miei compagni. Poi perché loro hanno l'armatura in ferro e io no? Eh? Dicemelo! Tieni il diamante. Tieni. Fai sharpness. Mi raccomando. Se manco a parlare. Uffa. Hai fatto sharpness. Fai sharpness. E mi dai diamanti. Oh, cinque diamanti. Grazie. Potevi fare anche te, eh. Comunque. Otto diamanti. Sei. Ora, dai. Altri tre diamanti e poi ci si può fare sharpness. Saliamo. Ehi te! No? No. Ma ho mancato tutti i colpi. Vabbè. Via, 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 via. Scappa, scappa. Eh, eh. Oh! Oh, oh! No, 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 no. Ce l'ho voglia. Ce l'ho qua, tre smeraldi, no! Eh, io non sono bravo nelle bedfords. Però mi diverto, sì che li porto. Dai su Ce la faremo Allora Devo farmi l'arma di gran ferro Ok E sono messo bene Con l'arma Nascono Un po' sponere gli amati Adesso Non devo pensare a queste cose Sta arrivando un giallo Porca miseria Ehi ciao Vedo che ancora non ti sei iscritto al canale E non hai lasciato un mi piace al video Che aspetti? Fallo Comunque dai ti lascio al video Ciao Dimmi che l'ho ammazzato io No non è manco morto Ah si che è morto Perché non mi fa piazzare i blocchi Oddio Oddio penso che era un nemico Ho due esmeraldi e un diamante Aiuto Oddio sto sudando fra un po' Vediamo come cosa mi posso prendere con due esmeraldi Niente metto tutto qua dentro Sta arrivando qualcuno No Saliamo qua Comunque per la vanilla Vi do un piccolo spoiler Nel prossimo episodio Molto probabilmente ci sarà una costruzione Molto Molto Come posso dire Utile in una vanilla Vai Vi ho già detto tanto Ok dai Vado ad aiutare il mio compagno Ehi Tieni qui Aha Ma loro Il letto non è che si è messo tanto bene Ma che pensi di fare contro Rick Games Eh Nabbo No 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 Vabbè dai I rossi non ci sono più Va benissimo Non mi importa niente Vabbè Allora Devo comprare subito Spada E un po' di blocchi Poi mettiamo tutto qua dentro E ok Ci serve sharpness Compagni Mari Oh Tanti Quanti diamanti Chi è che si è bevuta una pozione No 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 Si è bevuta una pozione Copro copro Dai dai aspettate aspettate Diamanti O gli esci diamanti Sharpness E poi che vi posso prendere Ehm Questa qui E poi vabbè No Come Dopo la No Eh 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 Ecco chi si era bevuta la pozione Ah Oh Quanti materiali Quanti materiali Oddio 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 Aspettate che vado In Ehm Muoio Allora fermi Mettiamo tutto qua dentro Mettiamo tutto qua dentro Oddio 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 Oh madonnina Quante cose che c'aveva Quante cose Fermi Oh Oddio Oddio Oh madonnina Ehm No Che 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 è successo Non mi dire che laggo eh Sto laggando tantissimo Sto laggando tantissimo Sto No No Aspettate forse posso rientrare Forse posso rientrare Sì La connessione Fa la sua però Posso rientrare Sto laggando un bordello Sì sono rientrato Ok 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 Allora Fermi fermi Un po' di blocchi Ok No Come l'hai detto distrutto Pure Ok ammazzato No 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 Devo prendere tutti i materiali Ehi te Non ammazzerai il mio compagno Ok Oddio È esploso qualcosa No 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 Non stavo laggando io Meno male Allora Fermi 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 Fireball Due fireball Due mele d'oro Poi Posso prendere un enderpearl No Mi compro Un uovo E poi Eh Jump 5 Non so A caso Tutto a caso Ok Dica tanto Questo qui Ah vero Devo comprare Piccone Potenziato No Aiuto Via 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 No 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 Ah Meno male Ce l'ha fatta Perché ho bevuto la pozione Non lo so manco io Grazie comunque Compagno Oh oh No Sono morto No Peccato Dai Vabbè dai È stata una bella partita Ragazzi Per questo video Era tutto Spero vi sia piaciuto Se così è stato lasciato Un bel mi piace Commentate Con quello che volete Mi raccomando Iscrivetevi A condividete il video Con tutti i vostri amici E attivate la campanellina Per non perdervi Nessun mio video E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao